...pedire il lancio del missile, agente. Ah, e fammi un favore. Fai il culo a Kiner. Un agente, lascia il... Composto biochimico sconosciuto, rilevato. Ci hai preso. C'è un carico eclissi su quel missile. Pensa che roba. Torretta Cecchino Traditori, rilevata. Torretta Cecchino Nemica, rilevata. Drone Aggressore Traditori, rilevato. Drone Aggressore Nemico, rilevato. Un agente si è unito al gruppo... Che spreco di talento e abnegazione. O devi fare meraviglie, agente. Che peccato. Mi sa che non capisci. Non lo faccio per me, lo faccio per tutti. Prova semplicemente ad aprire la mente. Torretta Inceneritrice Traditori, rilevata. Torretta Inceneritrice Nemica, rilevata. Alveare nido di Vespa e traditori, rilevato. Alveare nido di Vespa e nemico, rilevato. Quel carico farà tabularata a tutta la città. Ripartirà tutto da zero. Abbiamo lo stesso obiettivo. Io mi limito a rendere il tutto più rapido. Torretta Assaltitrice Nemica, rilevata. Torretta Artiglierie Traditori, 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 rilevata. drone difessore traditori rilevato drone difessore nemico rilevato drone bombardiere traditori rilevato drone bombardiere nemico rilevato minar ricerca detonante traditori rilevata minar ricerca detonante nemica rilevata segni vitali critici uscita dall'area contaminata area contaminata ma non è così errore da novellino mancati di prospettiva non capite proprio niente tutti gli tempi di occhio e rendi le cose troppo facile granata cambierai bene attirizzati non 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 nella ricerca di Lucciolace calca e micchia rilevata. Facciamo molto più intelligente. Abbandonate l'area contaminata. Ingresso in area contaminata. Grazie a tutti.